E tutta la puntata che quando facevano backstage inquadravano questa ragazza, mi domandavo chissà chi è, perché ha una personalità che parla subito, chiaramente, ed è subito si rivela made in Napoli, effettivamente ce l'ha proprio quella personalità napolegna. E poi sorvoliamo sul suono un po' pazzarella, però ha fatto troppo ridere il suo, sono stupido, se mi vedete stupido è perché sono proprio così, cioè quando poi una la prende così la leggerezza ti crepa, ti fa simpatizzare, perché comunque c'è ingenuità, c'è una ragazza che ti mostra quello che è nel bene e nel male, quindi non resta che sentirla cantare, Infatti canta e mamma mia che voce particolare, affascinante, mi difendo da te che sei di ghiaccio, dice nel testo, bello, 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 molto ma molto interessante, poi lentamente sempre più in acuto, in acuto, in acuto e si sente un po' quello che dice. Poi vabbè, mi stava piacendo moltissimo, ho detto fenomeno e poi si è messo a rappare, e a me le ragazze che rappano così non è che mi piacciono così tanto, ma anche i ragazzi, cioè per dire già quello stile diciamo quattro quarti così già è fastidioso di per sé. Fatto da una ragazza mi sono ancora più fastidioso, devo essere sincero, è una cosa mia, nulla contro le donne, però anche in questo aspetto ha molti colori nella voce, come ha detto Emma, cioè lei ha diversificato nell'intonazione ogni fottuta barra, e questo gli devo dare merito, cioè metricamente è stata banalissima, ok? Poi il classico che ci mette un po' di pathos, di enfasi, completamente fuori moda, è fuori standard, fuori tempo, però ha talmente diversificato ogni parola, è riuscita appunto a riempire di colori, anche le strofe rap, che dici cazzo, bene così, cioè poi ha sta faccetta che non ce la fai a non prenderla bene, ha una bellezza che non è quella bellezza della stangona da paura, è una bellezza particolare, genuina appunto, ed è autentica, ha un'identità, sia come persona, come volto, come sguardo, come voce, e questo poi appunto nella musica si sente tutto, sicuramente è grossa personalità da gestire, però ecco io direi di mandarla avanti perché se ben gestita e ben tenuta può dare soddisfazione, anche perché noi questi ragazzi li vediamo così, nudi e crudi all'inizio, al principio, questi già dopo due o tre puntate iniziano a diventare più professionali, vengono guidati da uno staff, dai loro giudici, quindi comunque inizia un percorso, partono così e poi li vediamo già piccole star, quindi lì diciamo si vedono fuori tanti aspetti, a volte molto negativi, perché ci si banalizza, a volte positivi. Io credo che a lei questo percorso possa fare solo ed esclusivamente bene.